E moribuongi dai vostri Giambomici, ciao amici, oggi stiamo andando a Modena per una doppia sorpresa ovvero andiamo da Dalila, aiuto il tunnel, mi vedete, e Alessandro e visto che sono due io ho pensato di... Tadam! Sì ora puoi, ora puoi, ora puoi Benvenuti amici in Io e l'Anima, in questo nuovissimo episodio Non è vero, c'è solo io e la Sabri e quindi si parte e si arriverà tra qualche ora Niente, ai 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 Guardate come si divertono, specialmente lui Vai Ricky, bravo Miau 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 Quattro gatti in fila per stare con il resto di due Si sta divertendo Giambi, che cosa gli chiedevano? La cintura è importante, mettetela sempre, anche dietro Anche Pietro? Anche Pietro deve metterla Siamo arrivati Yeah! Oggi siamo a Modena nella cameretta di Dalila ed Alessandro e sarà un episodio veramente pazzesco Perché la sorpresa è doppia Siamo in due, ci vediamo Ciao Sabri Noi siamo Dalila e Alessandro Io ho otto anni Io ho dodici E viviamo a Modena in Italia Io pratico Judo Io pratico danza moderna e danza classica E a me piace molto guardare i video di Sascha Noi abbiamo un gatto che si chiama Ziggy Che è questo qua Quindi speriamo della fortuna e... Ciao Sabri! Ciao Sabri! Ciao Sabri! Ciao Ciao Come state? Bene Quanto bene Bellissimo Posso entrare? Sì Sì Ma mi volevi aprire? No Sì Pronta Qualcuno pensava di dover andare dal dentista e invece niente dentista per te Fai vedere la bocca perfetta Vabbè adesso sarà un pomeriggio divertente Sei pronti? Sì Lei vorrebbe stare qua tutto il tempo così Io volevo fare prima di tutto un giro delle vostre camerette Aspetta qui c'è scritto vietato l'accesso ai non autorizzati quindi io non sono autorizzata ad entrare Sì dove lo sei? Ah posto Allora aspetta mi concentro Scommetto che tu sei Alessandro e tu Dalila Sì Che forte Ragazzi ma questa è una casa La casa di Noè? No È una villa Una villa ok Trampolino Ci sei un tipo il realeone È la rupe dei reni Vediamo come sono il flauto Ehm No l'ho toccata mia sorella che schifo la sua saliva Macchinine Guardate come mi illustra le cose con i piedi ok è proprio una bussola Oggi siamo da Dalila e Alessandro Il balletto di Fortnite Brava e rompi il canyon Io ho portato dei giochi Però ci giocheremo dopo Perché ora devo darvi un regalo Guarda cosa giocheremo dopo Azione e reazione È un gioco che impazziremo di divertimento Io ho prima di tutto il bracciale che si domina il buio Un orso sedere azzurro per te Un bottone giallo per te La felpina azzurra per te E la felpina verdimenta per te No 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 Ah scusate Il ciak Non si fa così Pica Chi inizia? Inizia tu Un bel forte eh Vai Ma no in due che diventano pazzi Tutto ok? Possiamo andare a fare i compiti? Che gioia I compiti Alessandro interrogato Mi parli dagli schizzi alle carte La necessità rudimentale Chiedi Pica cosa vuol dire rudimentale? Invece con Dali cosa facciamo? Tedesco Ficca perché hai visto No no vai leggi Per dire auf mi sono anche sputata addosso Anche un po' addosso a me Prova a fare la faccia di questo bambino qua Perfetto Ti immagini la mamma tedesca che la mattina si alza e dice Ciao amore Chi è Sasha? È il mio youtube preferito Ah ti vado bene lo stesso io? Sì? Allora dammi lo braccio Dobbiamo fare un po' d'inglese perché dobbiamo riscattarci Sabri Love Bravissima Traducimi La Sabri mi ama Miau 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 Ehm Visto che io prima mi sono fermata a prendere le castagne mentre venivo da voi Adesso è arrivato il momento merenda Oggi vi ho portato la torta barozzi La torta tipica di Modela Vero che voi non la volete assaggiare? Devo essere io la prima No Qua senti quello Brindiamo Cin cin Ehm Non so se mi piace Devo sentarne ancora un po' città Mi sta quasi convincendo eh Grazie Volevo insegnarvi una cosa Noi facciamo la raccolta differenziata Voi la fate? Sì Noi abbiamo un po' di umido Dove ce l'avete l'umido? Questa cosa è carta classificata? Carta? Carta 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 Sono abbastanza riconoscibile con questi capelli È più difficile di un esame Adesso nasconde Trondito Trondito Non potrei mai fare il lato Aiutami Il piano è pronto Abbiamo un walkie talkie Iniziamo a fare dei versi Addio amici Andiamo a Narnia Momento barzelletta by Sabri Cosa ci fa una tv nel mare? Manta uno squalo Vai nonna Cosa ci fa un cammello nel budino? Attraversa il desert A me fanno ridere Hai sentito? Sì l'ho sentito anch'io È tipo walkie talkie Ma no Ma c'è qualcuno in casa allora Io me l'ho messo lì Chi è? Fermo qua C'hai una gallina in casa e non mi hai detto niente Chi è? C'avete una fattoria in casa? Mi state facendo uno scherzo Dov'è l'altro di questo? Allora quando ero piccola io mi ha fatto trovare un gattino in giro per la stanza Cercate nelle scatole piccole magari c'è qualche gattino Non so Mi hanno beccato Come ci hanno beccato? Mi hanno beccato Ciao Ciao Guardate Guardate Sorpresa Sono più grandi di un gatto In Armando solitamente si entra in Arnia Sorpresa riuscita E allora è arrivato il momento di giocare Giochiamo Dai andiamo a prendere il gioco Oggi vi ho portato un gioco veramente bello che da piccola io lo sognavo Che è azione e reazione di Clementoni Qui sono tutti gli accessori che possiamo aggiungere perché possiamo fare i percorsi, le piste, allungarli Non è facilissimo da montare quindi vi metterò la prova Siete pronti? Lo devi dirigere il lavoro amore Io? Si Bisogna fare il ponte Questi qui sono tutti i pezzi che servono per fare diciamo il ponte Li avevamo già messi bene Dall'altra parte pollo Nasa se volete prenderci come ingegneri sono disponibili Che bravi è andata Ce l'abbiamo fatta e ce l'ho messo anche pochissimo a montarlo Proviamo tipo l'espansione che dovrebbe essere tipo un bottone acceleratore che li fa andare super veloci Scusate possiamo parlare piano che l'autista si è addormentato Ninna na na Ninna oh Questo bimbo A chi lo do A chi lo do Vedo C'è un incendio righi Adesso io e Dali facciamo blocco B e voi blocco C Finalmente è tutto pronto Incrociatele di Vai Oh Si 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 L'ho presa la presa Eh questa è perfetta Dai entra Ragazzi che ingegneri che siamo Scusate E' arrivato il momento anche di conoscere Ziggy Che è un po' timidone Ciao E' cieco Amore L'avete preso proprio perchè era cieco per salvarlo Si Ma che bravi Ora ti lasciamo dormire perchè è arrivato il momento di un regalo molto importante E' arrivato uno dei miei momenti preferiti quindi amore Ora tu devi controllare che loro tappino bene gli occhi Può scegliere quello giusto No no di qua guarda io le do troppe vai No no chiudete 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 Tieni in mano questo Tieni in mano questo Così Al mio via Aprite gli occhi 3 2 1 via Potete girarlo C'è ve li ho fatti personalizzati stavolta eh Se voi due Vi piacciono? Buono Vieni qua Guardate che bello Azzurro e rosa Quanto siete stati contenti di questa super sorpresa? Tantissimo Fatemelo con un aggettivo C'è in che senso Carota 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 è tantissimo E allora io spero che vi siano piaciuti i vostri regali Il vostro pomeriggio La vostra torta e tutto quanto Cosa devono fare per partecipare a io e la Sabri? Il link in descrizione trovate come partecipare Bravissima E? Buona colpura a tutti Rimangono ancora degli appuntamenti E quindi amore sei stato felice? Sì Sì ma non ti riporterò più Questa era una cosa speciale Io vi mando un bacio e vi ricordo che Io e la Sabri esce ogni prima domenica del mese Fate un in bocca al lupo a tutti In bocca al lupo a tutti In bocca al lupo Ancora uno Ancora uno Ancora uno E a me amore Ancora Noi non me!